Come commenta quello che è accaduto a Torino? Una cosa incredibile a cui bisogna porre un limite e un veto. Quando c'è violenza io ho sempre sostenuto la necessità della castrazione chimica. Quando uno se la prende con delle disabili piuttosto che con dei bambini io per legge penserei alla castrazione chirurgica perché sono soggetti irrecuperabili.